Fabio Colini, buongiorno. Nell'ultimi tempi l'abbiamo visto spesso abbracciare il Partito Democratico durante dei presidi in alcune strade della città per segnalare dei disagi che purtroppo coinvolgono i cittadini. Possiamo pensare che sia in atto una sorta di preparazione ad un matrimonio con il Partito Democratico oppure è sbagliato leggerla in questo modo? Sì, buongiorno. Parto dal punto fondamentale del Movimento, nello Statuto. Il Movimento è un Movimento civico che non si riconosce in nessuna ideologia partitica e collabora con le idee per il bene della città. Quindi la collaborazione che è nata con il Partito Democratico è semplicemente perché ci sono state delle azioni che sono state condivise per il bene della città. Quindi come via Negrotto, come via Cambiasio. Quindi io mi vorrei soffermare a questo e inoltre vorrei aggiungere che non siamo assolutamente in campagna elettorale perché fino alla sentenza del Consiglio di Stato siamo in una situazione di stallo. Quindi che tipo di suggerimento darei ai cittadini nel caso dovesse esserci però un ballottaggio una volta che arriverà la decisione del Consiglio di Stato? Che tipo di suggerimento darà ai tali rispetto ai cittadini e ai propri elettori? Noi valuteremo qual è il programma presentato dai due candidati sindaci. Nel momento in cui riterremo che ci saranno delle idee per il bene della città daremo delle indicazioni. Nel momento in cui non ci saranno diremo ai nostri elettori di votare per coscienza. Lei ha detto che Italia del rispetto sposa volentieri i progetti o comunque quei partiti o quei movimenti e quegli altri movimenti che hanno in un qualche modo affrontato delle problematiche che affliggono i cittadini. A parte il Partito Democratico ci sono stati nel corso del tempo, nei mesi, degli altri partiti, delle altre realtà politiche vogheresi che hanno espresso la volontà di collaborare con voi? No, assolutamente. Dopo l'elezione l'unico partito che si è avvicinato è il Partito Democratico. Infatti io invito qualunque altro partito, qualunque altro movimento, nel momento in cui ha il piacere di poter rubare con noi, noi siamo disponibili.